Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La serata del party conclusivo del Grande Fratello 2024 ha attirato l'attenzione per presunte tensioni e assenze significative. Tra le voci che circolano, spunta l'indiscrezione riguardante la presunta fine dell'amicizia tra Perla Vatiero e Anita Olivieri, alimentata da movimenti sui social. Ma un altro enigma riguarda l'assenza di Beatrice Luzzi al query post-reality. Aya Web è diviso sulle ragioni. Alcuni ipotizzano una protesta per la mancata vittoria, considerando il suo record di televoti e il ruolo da favorita. Si suggerisce che possa essere un atto di ripicca verso coloro che l'hanno criticata durante il programma. Altri, invece, sostengono che Luzzi abbia preferito trascorrere tempo con la famiglia dopo mesi di lontananza. La sua assenza ha alimentato il dibattito sul suo ruolo nella stagione, con molti che ritengono meritasse la vittoria. A O'Party erano presenti numerosi ex concorrenti, tra cui la vincitrice Vatiero e altri volti noti. Tuttavia, è stato evidente l'assenteismo di Massimiliano Barrese, eterno rivale di Beatrice Luzzi.